Apriamo con il consueto appuntamento di ogni anno con il nuovo libro di Bruno Vespa, Donne d'Italia. È un libro che parla di donne, donne di potere, incomincia con Cleopatra e attraverso Cornelia, Anita Garibaldi, arriva fino a Maria Elena Boschi, naturalmente inframmezzato sempre con le vicende politiche che ci riguardano. Abbiamo un altro bel libro, quest'anno arriva Michela Murgia con Chiru, che è un romanzo d'amore. La Murgia, la ricordiamo con il libro di Acca Badora, ha fatto dei libri molto impegnati anche politicamente. Questo è un romanzo d'amore che parla di una copia di ragazzi giovani, molto bello. Voglio terminare con questo libro di Barani, nonno Bach. Barani è un musicista molto famoso, iraniano d'origine, che vuole raccontare e vuole aprire il mondo della musica ai bambini. Molto bello anche per un regalino a un nipotino per esempio.